Fabrizio Borriello, Cech che torna subito in campo dopo la sconfitta contro l'Alamassi domenica scorsa. Si va a giocare sul campo del Montalto, una sfida insidiosa perché parliamo di una promossa che ha fatto bene in queste prime giornate. Come arriva il Cech a questa partita? Sì, fortunatamente si rigioca subito mercoledì, di modo che abbiamo subito l'occasione per rifarci dopo la brutta sconfitta. Siamo vogliosi, comunque è un'altra competizione, la Coppa è vero che crea a volte anche disagi per chi lavora, per gli under che comunque debbono andare a scuola. Quindi giocare il mercoledì pomeriggio non è sempre facile per tutti. Per fortuna, fra virgolette, giochiamo nelle vicinanze di Civitavecchia, quindi magari la trasferta è anche meno lunga. Il Civitavecchia ci arriva con voglia di rifarsi, con la consapevolezza della nostra forza e del nostro gruppo. Probabilmente ci sarà modo anche di vedere qualcuno che ha giocato un po' meno in questo inizio campionato, però siamo tutti molto vogliosi di riscattarci. Una sfida contraddistinta da tanti ex, per esempio nel Cech ci sono tutti i tre fratelli Vittorini che hanno giocato con il Montalto, tra l'altro Manuel è stato protagonista della vittoria della Coppa Italia di promozione l'anno scorso per il Montalto e quindi la promozione in eccellenza. E poi nel Montalto ci sono tanti giocatori di Civitavecchia, soprattutto tra gli under, per cui sarà particolare questa cosa, un pochino sentita il fatto che sia quasi un derby? Beh sì, se consideriamo anche Serafini e Nudi che l'anno scorso... È vero, è vero, i dimenticati sono tantissimi. Eh sì, esatto. Sì, diciamo che probabilmente per qualcuno sarà più che un derby, diciamo, però ripeto, noi andiamo in campo, oltre ad affrontare il Montalto, insomma, non è che affrontiamo giocatori che dobbiamo per forza farci valere perché sono di Civitavecchia e sono andati a giocare fuori, assolutamente. Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a fare una buona partita. Quanto manca per vedere un CX al 100% delle sue potenzialità? Beh, sicuramente ancora c'è da lavorare, come in fondo c'è da lavorare sempre. Magari qualche acciacca e qualche infortunio di troppo, che purtroppo in questo periodo ci stanno contraddistinguendo anche e soprattutto nel reparto di centrocampo, è ovvio che magari consentono meno di lavorare sul campo e provare determinate cose che magari il mister vuole. Però io credo che con il lavoro e con il sacrificio di tutti, alla fine il Civitavecchia uscirà fuori.